Non mi sono mai sentito così puro, così fiero, di quando ho fatto una missione con la nostra bandiera sulle spalle. Non voglio perdere quello che abbiamo fatto negli ultimi 17 anni senza nessun risultato. Per il tuo paese ti sei preso 5 pallottole e non puoi neanche pagare il collegio ai figli. Ho un lavoro per te. Sono in congedo. Fish? Mi serve un pilota? Adesso ho un bambino. Questa cosa potrebbe cambiarvi la vita per sempre. Vogliamo sfruttare le capacità che abbiamo a nostro vantaggio. Ok. Pronti ragazzi? Andiamo a prendere Gabriel Martin Lorea. Non riuscivo a trovarlo ma ora so dov'è. Secondo i miei calcoli lui ha più di 75 milioni in contanti. Se dopo il tuo intervento non spariremo per sempre, moriremo. Dopo stanotte non potrete tornare alla vita normale. Ciò che stiamo per fare è un crimine. Tutti nello studio. Adesso. Santo cielo. Il primo turno è il primo turno di guardie. Sono tornati. Dobbiamo andare. Dunque prendiamo una borsa a testa. Ed è fatta. No! Ci sono 100 milioni di dollari che ci aspettano nel panno. Non lasceremo loro neanche un cazzo di dollari. Che alternativa c'è? Dobbiamo agire e sparare in fretta. Non è quello che ho accettato. Non c'è più tempo. Forza. Andiamo! Abbiamo fatto un casino tremendo! Noi non agiamo in questo modo! Non c'è solo il denaro di Lorea. Vi verranno a cercare molte altre persone. Tu ci hai mentito. Sono certo che è lo stesso in ogni città. Allora li affronteremo. È sempre più dura di quanto pensi. Possiamo ancora dire no. Se atterriamo qui moriremo. Scacciamo i soldi!